Capitolo 2 La ragazza del distretto 12 Poteva esistere, affronto peggiore. Il distretto 12. Il distretto più piccolo. Il distretto barzelletta, con quei ragazzini rachitici dalle articolazioni gonfie che morivano sempre nei primi cinque minuti e, come se non bastasse, la ragazza. Non che una ragazza non potesse vincere, ma nella testa di Coriolanus, gli Hunger Games erano soprattutto questione di forza bruta. E le femmine erano per natura più minute dei maschi, quindi in svantaggio. Lui non era mai stato particolarmente amato dal decano High Bottom, che scherzando chiamava «fuori come un balcone Bottom» con gli amici, ma non si aspettava di certo un'umiliazione pubblica del genere. Che al decano fosse arrivata voce del nomignolo, o quell'assegnazione era soltanto un riconoscimento del fatto che, nel nuovo ordine, gli Snow stavano diventando insignificanti. Sentiva il sangue bruciargli le guance mentre tentava di restare calmo. Quasi tutti gli altri studenti si erano alzati e chiacchieravano tra loro. Doveva raggiungerli, fingere che quella faccenda fosse priva di importanza, ma sembrava incapace di muoversi. Il massimo che riuscì a fare fu girare la testa a destra, verso Sejanus ancora seduto accanto a lui. Apri la bocca per congratularsi, ma si fermò di fronte alla malcelata infelicità che leggeva sul suo viso. «Cosa c'è?» chiese. «Non sei contento? Il distretto 2, il ragazzo, il meglio della nidiata!» «Te ne sei dimenticato! Io faccio parte di quella nidiata!» replicò Sejanus con voce roca. Coriolanus metabolizzò le sue parole. Quindi dieci anni di Capitol City e della vita che offriva erano andati sprecati con Sejanus. Si considerava ancora uno dei distretti. Stupidaggini sentimentali. Il ragazzo corrugò la fronte, costernato. «Sono sicuro che è stato mio padre a richiederlo. Cerca sempre di farmi mettere la testa a posto!» Indubbiamente, pensò Coriolanus. Le tasche gonfie e l'influenza del vecchio strabo Plint godevano di rispetto, al contrario della sua discendenza. E per quanto in teoria le posizioni di mentore venissero assegnate in base al merito, risultava chiaro che qualche filo era stato tirato. Gli spettatori avevano ripreso posto. Un sipario si aprì in fondo al palco, rivelando uno schermo a tutta parete. La mietitura, indiretta da ogni distretto, era trasmessa in tutto il paese e procedeva dalla costa est a quella ovest. Ciò significava che il distretto 12 avrebbe dato il via alla giornata. La gente si alzò in piedi quando il sigillo di Panem riempì lo schermo, accompagnato dall'inno di Capitol City. «Gemma di Panem, città potente, nei secoli tu splendi ancora!» Alcuni studenti annasparono per ricordarsi le parole, ma Coriolanus, che per anni aveva sentito sua nonna storpiarle ogni giorno, cantò tutti e tre i versi con voce potente, guadagnandosi qualche cenno di consenso. Era patetico, ma aveva bisogno di ogni goccia di approvazione possibile. Il sigillo svanì e lasciò il posto al presidente Ravenstil, i capelli striati d'argento, vestito con l'uniforme militare anteguerra, tanto per ricordare che lui controllava i distretti già molto prima dei giorni bui della ribellione. Declamò un breve passaggio dal Trattato del Tradimento, nel quale si disponevano gli Hunger Games come riparazione ai danni di guerra, giovani vite dei distretti prese in cambio delle giovani vite di Capitol City andate perdute. Il prezzo per il tradimento dei ribelli. Gli strateghi tagliarono sulla squallida piazza del distretto 12, dove un palco temporaneo, adesso fiancheggiato da pacificatori, era stato innalzato davanti al Palazzo di Giustizia. Il sindaco Lip, un uomo tozzo e lentigginoso che indossava un completo disperatamente antiquato, era in piedi tra due sacchi di iuta. Affondò la mano in quello di sinistra, ne estrasse una striscia di carta e la guardò a malapena. «Il tributo femminile del distretto 12 è Lucy Grey Bird», disse al microfono. La telecamera si spostò sulla folla di persone dai volti grigi e affamati, insaccate in vestiti grigi e in formi, cercando il tributo. Zoomò verso un punto in cui sembrava ci fosse un po' di trambusto, mentre le ragazze si allontanavano dalla sfortunata prescelta. Il pubblico emise un mormorio di sorpresa nel vederla. Lucy Grey Bird se ne stava ben eretta in un abito a balze dei colori dell'arcobaleno, ora sdrucito, ma un tempo elegante. I capelli scuri e ricci erano raccolti e intrecciati a fiori selvatici ormai flosci. L'insieme vario pinto attirava lo sguardo, come una farfalla lacera in mezzo alle falene. Non andò verso il palco in linea retta, ma cominciò a zigzagare tra le ragazze alla sua destra. Accadde tutto in fretta. Il tuffo della mano tra le balze all'altezza del fianco, il guizzo verde brillante che dalla tasca si era infilato nel colletto del vestito di una sogghignante ragazza dai capelli rossi, il fruscio della gonna mentre proseguiva. L'attenzione rimase sulla vittima, il sorrisetto che si trasformava in un'espressione inorridita, gli strilli mentre cadeva a terra dimenandosi e colpendosi il vestito, le urla del sindaco. E sullo sfondo, la salitrice continuava a zigzagare, continuava a scivolare verso il palco, senza voltarsi indietro nemmeno una volta. Heavens be all si animò quando la gente cominciò a dare di gomita ai vicini. Ma hai visto? Cosa le ha fatto scivolare nel vestito? Una lucertola. Io ho visto un serpente. L'ha uccisa. Coriolanus osservò gli spettatori e sentì una scintilla di speranza. Il suo improbabile tributo, il suo scarto, la sua offesa, aveva catturato l'interesse di Capitol City. Era un bene, no? Con il suo aiuto, magari quella ragazza sarebbe riuscita a conservarlo e lui avrebbe potuto tramutare il disonore in uno spettacolo decoroso. In un modo o nell'altro, i loro destini erano indissolubilmente legati. Sullo schermo, il sindaco Lip scese di corso ai gradini del palco, facendosi largo a spintoni nel gruppo delle ragazzine fino a raggiungere quella a terra. «Mayfair! Mayfair!» gridò. «Mia figlia ha bisogno di aiuto!» Intorno a lei si era aperto un varco circolare, ma i pochi, in certi tentativi di soccorrerla, erano ostacolati dall'agitarsi furioso di gambe e braccia. Il sindaco irruppe nello spazio libero proprio mentre un serpentello di un verde cangiante schizzava fuori dalle pieghe del vestito e si tuffava tra la folla, suscitando urle e scatti per evitarlo. Quando il serpente si fu allontanato, Mayfair si calmò, ma la sua angoscia venne subito sostituita dall'imbarazzo. Guardò dritto in camera, accorgendosi che tutti gli abitanti di Panem la stavano osservando. Una mano tentò di ratrizzare un fiocco tra i capelli, l'altra si spostò per riaggiustare gli abiti, sporchi della polvere di carbone che copriva ogni cosa e strappati dalle sue unghie. Quando suo padre l'aiutò ad alzarsi, fu evidente che se l'era fatta addosso. L'uomo si tolse la giacca per avvolgergliela intorno alle spalle, poi la affidò a un pacificatore perché la portasse via. Si girò verso il palco e puntò uno sguardo assassino sul più recente tributo del distretto 12. Mentre osservava Lucy Greybird salire sul palco, Coriolanus avvertì una fitta di disagio. Che fosse mentalmente instabile? Aveva qualcosa di familiare e allo stesso tempo inquietante. Tutte quelle balze rosa lampone, blu elettrico e giallo brillante. Sembra un artista del circo, osservò una ragazza. Gli altri mentori borbottarono qualcosa in segno di assenso. Ecco, Coriolanus tornò con la memoria ai circhi della sua prima infanzia. Giocolieri e acrobati, pagliacce e ballerine in abiti vaporosi che piroettavano tutto intorno mentre lui si stordiva sempre più di zucchero filato. Che il suo tributo avesse scelto un abbigliamento così festoso per l'evento più cupo dell'anno dimostrava una stranezza che andava oltre un semplice errore di valutazione. Il tempo concesso per la mietitura del distretto 12 era senz'altro trascorso, ma non c'era ancora un tributo maschile. Ciò nonostante, quando il sindaco Lip tornò sul palco, ignorò i sacchi con i nomi, puntò dritto alla ragazza e la colpì in pieno viso con una tale violenza da farla cadere in ginocchio. Aveva già alzato la mano per schiaffeggiarla un'altra volta quando intervennero due pacificatori che gli afferrarono le braccia e tentarono di ricondurlo al motivo per cui era lì. Di fronte alla sua resistenza, lo trascinarono di nuovo nel palazzo di giustizia, bloccando così l'intera procedura. L'attenzione si trasferì alla ragazza sul palco. Quando la telecamera zoomò su di lei, Coriolanus non si sentì affatto rincuorato riguardo alla sanità mentale di Lucy Greybird. Non aveva idea di dove si fosse procurata il trucco, dal momento che a Capitol City stava appena tornando disponibile, ma i suoi occhi erano ombreggiati di azzurro e contornati di nero, le guance sfumate di rosa e le labbra tinte di un rosso un po' oleoso. A Capitol sarebbe stato considerata audace. Nel distretto 12 sembrava eccessivo. Era impossibile distogliere lo sguardo da lei che se ne stava lì a passarsi la mano sulla gonna, lisciandosi ossessivamente le balze. Solo dopo averle sistemate per bene, la ragazza sollevò la stessa mano per toccarsi la guancia. Il suo labbro inferiore tremò leggermente e i suoi occhi brillarono per le lacrime che minacciavano di traboccare. «Non piangere!» sussurrò Coriolanus. Si trattenne. Si guardò intorno con ansia e scoprì che gli altri studenti erano conquistati. Le loro espressioni mostravano preoccupazione. Lucy Greybird aveva ottenuto la loro solidarietà, nonostante la sua stravaganza. Non avevano idea di chi fosse o del motivo per cui aveva attaccato Mayfair, ma chi non si sarebbe accorto che quella piccoletta sogghignante era perfida e che suo padre era un animale, visto che era stato capace di sbattere a terra una ragazza appena condannata a morte. «Scommetto che hanno truccato il sorteggio», disse Sejanus sottovoce. Non c'era il suo nome su quel foglietto. proprio quando la ragazza era sul punto di perdere la sua battaglia contro le lacrime accadde una cosa strana. Da un punto in mezzo alla folla una voce cominciò a cantare. Una voce giovane che poteva appartenere a un maschio o a una femmina, ma così alta da echeggiare nella piazza silenziosa. «Non puoi rubare il mio passato. La mia storia non puoi rubare». Una folata di vento attraversò il palco e la ragazza sollevò ad agio la testa. Da un altro punto tra la folla si levò una voce più profonda, chiaramente maschile. «Potresti prenderti, mio padre, ma il suo nome sarà un mistero da svelare». L'ombra di un sorriso aleggiò sulle labbra di Lucy Greybird. Si alzò di colpo, camminò a grandi passi fino al centro del palco, afferrò il microfono e si scatenò. «Quello che puoi togliermi non meritava di essere conservato!» Infilò la mano libera tra le balze della gonna, facendola ondeggiare da una parte all'altra e tutto cominciò ad acquistare un senso, l'abito, il trucco, i capelli. Chiunque fosse era vestita per esibirsi. Aveva una bella voce, squillante e chiara sulle note alte, roca intensa su quelle basse e si muoveva con sicurezza. «Non puoi rubare il mio fascino, il mio spirito non puoi rubare, non puoi prenderti i miei soldi, perché sono solo un gran parlare. Quello che puoi togliermi non meritava di essere conservato!» Cantare la trasformava e Coriolanus non la trovava più così bizzarra. Aveva qualcosa di attraente, di seducente persino. La telecamera la divorava mentre si dirigeva sul bordo del palco e si sporgeva verso il pubblico dolce e sfrontata. «Pensavi di essere un grande! Pensavi di prenderti le mie mutande! Pensavi di essere tu a comandare! Pensavi di potermi cambiare! Pensaci bene se è quello che vuoi fare! Perché...» E a quel punto si allontanò. Percorse il palco ancheggiando proprio davanti ai pacificatori, alcuni dei quali faticavano a nascondere il sorriso. Nessuno di loro si mosse per fermarla. «Non puoi rubare la mia ostinazione da mulo! I miei discorsi non puoi rubare! Però puoi baciarmi il culo e continuare a camminare! Quello che puoi togliermi non meritava di essere conservato!» Le porte del palazzo di giustizia si spalancarono di schianto e i pacificatori che avevano portato via il sindaco irruppero di nuovo sul palco. La ragazza era girata verso il pubblico ma si capiva che aveva notato il loro arrivo. Si diressa all'estremità opposta del palco per il gran finale. «No, signore! Quello che puoi togliermi non merita il fango! Prenditelo perché lo regalerei! Tanto non piango!» «Quello che puoi togliermi non meritava di essere conservato!» Riuscì a mandare un bacio prima che le fossero addosso. «I miei amici mi chiamano Lucy Gray! Spero che lo farete anche voi!» gridò. Uno dei pacificatori le strappò di mano il microfono. L'altro la sollevò di peso e la riportò al centro del palco. Lei salutò con la mano come se ricambiasse un chiassoso applauso non un silenzio di tomba. Per alcuni istanti tacquero anche gli spettatori della Heavensby Hall. Coriolanus si chiese se, come lui, sperassero che la ragazza avrebbe continuato a cantare. Poi ripresero tutti a parlare prima di lei poi di chi era stato così fortunato da averla. Gli altri studenti allungavano il collo e si guardavano intorno alcuni rivolgendogli il gesto del pollice alzato alcuni lanciandogli occhiate risentite. Lui scrollò la testa con aria confusa ma dentro di sé era raggiante. Gli Snow si posano in cima. I pacificatori ricondussero il sindaco all'esterno e lo affiancavano per evitare altri scontri. Lucy Gray che esibendosi sembrava aver recuperato la sua compostezza ignorò il ritorno dell'uomo. Questi lanciò uno sguardo torvo alla telecamera mentre schiaffava la mano nel secondo sacco e ne estraeva diverse strisce di carta. Alcune caddero svolazzando sul palco e lui lesse quella che rimaneva. Il tributo maschile del distretto 12 è Jessup Diggs. I bambini nella piazza si agitarono e fecero largo a Jessup un ragazzo con una frangia di capelli neri appiattita sulla fronte sporgente. Rispetto ai tributi del distretto 12 quello era un bel esemplare robusto e più grosso della media. Lo sporco di cui era ricoperto suggeriva che lavorasse già nelle miniere. Un fiacco tentativo di lavarsi aveva portato alla luce un ovale abbastanza pulito ma comunque cerchiato di nero in mezzo alla faccia e la polvere di carbone gli incrostava le unghie. Salì goffamenti gradini per prendere il suo posto. Mentre si avvicinava al sindaco Lucy Gray fece un passo avanti e gli tese la mano. Il ragazzo esitò poi gliela strinse. Lei gli passò davanti porse la sinistra e i due si ritrovarono in piedi fianco a fianco mano nella mano un attimo prima che lei facesse una profonda riverenza trascinando il compagno in un inchino. Dalla folla vennero pochi applausi e un urrà isolato quindi i pacificatori si avvicinarono e la diretta della mietitura si spostò nel distretto Otto. Coriolanus finse di essere molto preso dallo spettacolo mentre Otto 6 e 11 chiamavano i loro tributi ma il suo cervello ragionava frenetico sulle conseguenze dell'essersi aggiudicato Lucy Graybird. Era un dono lo sapeva e come tale doveva trattarla. però come sfruttare al meglio il suo sensazionale debutto? Come ottenere qualche risultato da un vestito un serpente una canzone? Ai tributi sarebbe stato concesso pochissimo tempo con il pubblico prima dell'inizio dei giochi. Come poteva indurre gli spettatori a investire su di lei e di riflesso su di lui soltanto con un'intervista? Badò appena gli altri tributi quasi sempre creature patetiche e prese nota dei più forti. Seianus aveva ottenuto un tizio gigantesco dal distretto 2 e anche il ragazzo del distretto 1 di Livia aveva l'aria di essere un buon concorrente. La ragazza di Coriolanus sembrava abbastanza sana ma il suo fisico esile era più adatto al ballo che al combattimento corpo a corpo. In compenso era convinto che fosse in grado di correre piuttosto veloce e questo era importante. Mentre la mietitura si avviava alla conclusione il profumo proveniente dal buffet si spandeva sul pubblico. Pane appena sfornato cipolle carne Coriolanus non poteva impedire al suo stomaco di brontolare quindi azzardò altri due sorsi di posca per calmarlo. Si sentiva elettrizzato sturdito famelico una volta spento lo schermo dovette ricorrere a tutto l'autocontrollo possibile per non precipitarsi al buffet. La sua vita era stata caratterizzata da un'eterna danza con la fame. Non i primissimi anni quelli antecedenti alla guerra ma ogni giorno da allora era stata una battaglia una contrattazione una strategia. Qual era la soluzione migliore per prevenire la fame? Mangiare tutto il cibo in un unico pasto? Distribuirlo lungo la giornata con il contagocce? Divorarlo o masticare ogni boccone fino a renderlo liquido? Era tutto un gioco mentale per distrarsi dal fatto che non era mai abbastanza. Nessuno gli permetteva mai di averne a sufficienza. Durante la guerra i ribelli avevano occupato i distretti che provvedevano alla produzione alimentare. Traendo a esempio le stesse strategie di Capitol City avevano tentato di prenderla per fame servendosi del cibo o della sua assenza come di un'arma. Ora i ruoli si erano invertiti un'altra volta con Capitol City che controllava gli approvvigionamenti e si era spinta ancora più in là rigirando il coltello nel cuore dei distretti attraverso gli Hunger Games. Nella violenza dei giochi c'era il tormento silenzioso che tutti a Panem avevano vissuto. Il bisogno disperato di avere da mangiare a sufficienza per arrivare all'alba successiva. Quel bisogno aveva trasformato in mostri anche i più eminenti cittadini di Capitol. Chi cadeva all'improvviso per le strade morto di stenti diventava parte di una raccapricciante catena alimentare. Una sera d'inverno Coriolanus e Tigris erano usciti di nascosto dall'appartamento per cercare tra i rifiuti alcune cassette di legno che avevano notato in un vicolo. Lungo il cammino superarono tre cadaveri e ne riconombero uno quello di una giovane cameriera tanto garbata che serviva al tè ai raduni pomeridiani dei Crane. Cominciò a scendere una neve pesante e bagnata quindi pensarono che le strade sarebbero state deserte ma sulla via del ritorno una sagoma rannicchiata li fece scappare a nascondersi dietro una siepe. Da lì videro il loro vicino Nero Price un colosso dell'industria ferroviaria tagliare una gamba della cameriera segandola con un coltello spaventoso fino a staccarla. L'uomo avvolse l'arto nella gonna che strappò dalla vita della ragazza e fuggì in una strada laterale che portava sul retro della sua residenza di città. I due cugini non ne parlarono mai nemmeno tra loro ma ciò che videro restò impresso a fuoco nella memoria di Coriolanus. La ferocia che deformava il volto di Price il calzino bianco e la sciupata scarpa nera all'estremità della gamba amputata l'orrore assoluto nel rendersi conto che a quel punto anche lui poteva essere considerato commestibile. Coriolanus attribuiva la sua sopravvivenza sia fisica sia morale alla lungimiranza della signora nonna all'inizio della guerra. I suoi genitori erano morti così come quelli di Tigris perciò i due bambini erano andati a vivere insieme alla donna. I ribelli continuavano ad avanzare verso Capitol City a rilento ma con regolarità anche se l'arroganza della città impediva che questo dato di fatto venisse riconosciuto pubblicamente. La carenza di cibo esigeva che persino i più ricchi cercassero determinate provviste al mercato nero. Fu così che in un tardo pomeriggio di ottobre Coriolanus si ritrovò davanti alla porta posteriore di un locale notturno un tempo alla moda stringendo il manico di un carretto rosso da una parte e dall'altra la mano guantata della signora nonna. Il freddo pungente che si sentiva nell'aria era già un presagio minaccioso dell'inverno e il cielo era coperto da scure nuvole grigie. Erano andati a trovare Pluribus Bell un vecchio con gli occhiali dalle lenti color limone e una parrucca bianca incipriata che gli arrivava alla vita. Lui e il suo socio Cyrus un musicista erano i proprietari del locale ormai chiuso e sbarcavano in lunario trafficando merci nel vicolo sul retro. Gli Snow erano lì per una cassa di latte in scatola dato che quello fresco era scomparso settimane prima ma Pluribus disse che l'aveva finito. Appena arrivate erano invece delle casse di fagioli secchi impilate l'una sull'altra sul palcoscenico a specchi dietro di lui. Si manterranno per anni garantì alla signora nonna ho in mente di metterne da parte una ventina per mio uso personale. La nonna di Coriolanus rise che cosa disgustosa no mia cara disgustoso è quello che succede quando si è senza replicò Pluribus. Coriolanus non approfondì ma la signora nonna smise di ridere gli scoccò un'occhiata e per un attimo strinse la mano del nipote nella sua parve un gesto involontario un crampo quasi poi guardò le casse e sembrò riflettere su qualcosa quant'è poi darmene chiese al proprietario del locale Coriolanus portò via una cassa sul suo carretto mentre le altre ventinove giunsero nel cuore della notte dal momento che l'accaparramento era tecnicamente illegale Cyrus e un suo amico trasportarono le casse su per le scale e le accatastarono al centro del salotto sontuosamente arredato in cima al mucchio misero un unico barattolo di latte omaggio di Pluribus poi augurarono loro la buonanotte Coriolanus e Tigris aiutarono la signora nonna a nascondere i fagioli negli armadi nei guardaroba eleganti persino nella vecchia pendola chi mangerà tutta questa roba chiese lui a quell'epoca nella sua vita c'erano ancora la pancetta e il pollo e di tanto in tanto un arrosto il latte era una cosa saltuaria ma il formaggio abbondava e a cena si poteva sempre contare su qualche tipo di dolce anche se solo pane e marmellata noi ne mangeremo una parte e forse il resto potremo barattarlo rispose la signora nonna sarà il nostro segreto a me non piacciono i fagioli disse Coriolanus imbronciato o almeno credo beh chiederemo al cuoco di trovare una buona ricetta replicò la signora nonna ma il cuoco era stato arruolato per la guerra e poi era morto d'influenza si scoprì allora che la signora nonna non sapeva nemmeno accendere un fornello figurarsi seguire una ricetta toccò quindi a Tigris che aveva otto anni far bollire i fagioli per lo stufato bello denso poi per la zuppa e infine per la minestra acquosa che li avrebbe sostentati per tutta la guerra fagioli cavolo la razione di pane sopravvissero così giorno dopo giorno per anni la fame gli aveva sicuramente bloccato la crescita sarebbe stato sicuramente più alto e con le spalle più larghe se avesse avuto di più da mangiare ma il suo cervello si era sviluppato a dovere o almeno lo sperava fagioli cavolo pane nero finì per odiare quella roba ma quella roba li tenne in vita senza vergogna e senza mangiare i cadaveri dei propri simili nelle strade Coriolanus deglutì l'acquolina che gli inondava la bocca mentre allungava la mano per prendere il piatto dal bordo dorato con il sigillo dell'accademia in rilievo anche nei giorni di vacche più magre a Capitol City non erano mai mancate stoviglie eleganti e a casa lui stesso aveva mangiato più di una foglia di cavolo in porcellane finissime scelse un tovagliolo di lino una forchetta un coltello quando solevò il coperchio del primo scalda vivande d'argento pregiato il vapore gli bagnò le labbra crema di cipolle ne prese una cucchiaiata frugale tentando di non sbavare patate lesse zucchine prosciutto al forno panini caldi e un pezzetto di burro due pezzetti ripensandoci un piatto pieno ma non da ingordo non per un adolescente lo posò sul tavolo accanto a Clemenzia e andò a prendere il dolce da un carrello perché l'anno prima era rimasto senza e si era perso del tutto la tapioca il suo cuore perso un battito quando vide fette e fette di torta di mele ognuna decorata da una bandierina di carta con il sigillo di pane torta da quanto tempo non ne mangiava un po' stava cercando di arrivare a uno spicchio di media grandezza quando qualcuno gli spinse sotto il naso un piatto che ne conteneva una porzione enorme oh prendi il pezzo grosso un ragazzo che cresce come te può farcela gli occhi del decano Highbottom erano umidi ma avevano perso lo sguardo vitreo della mattina anzi erano puntati su di lui con un'acutezza inaspettata Coriolanus accettò il piatto con un gran sorriso che sperò apparisse fanciullesco e amichevole grazie signore riesco sempre a trovare spazio per il dolce sì non è mai difficile abituarsi alle cose piacevoli disse il decano nessuno lo sa meglio di me immagino di no signore ma le sue parole suonarono male lui voleva dichiararsi d'accordo con la parte sulle cose piacevoli e invece il suo sembrava un commento pungente sull'indole del decano tu immagini di no il decano Highbottom socchiuse gli occhi continuando a fissarlo allora Coriolanus quali sono i tuoi programmi dopo i giochi spero di andare all'università rispose lui che strana domanda il suo curriculum accademico lo rendeva evidente senza alcun dubbio sì ho visto il tuo nome tra i candidati e i premi disse il decano e se non dovessero assegnartene uno Coriolanus balbettò beh in quel caso pagheremo la retta naturalmente ah davvero? il decano Highbottom si mise a ridere ma guardati con quella camicia di ripiego e quelle scarpe troppo strette che cerchi di sopravvivere che ti pavoneggi per Capitol City quando dubito che agli snow sia rimasto un vaso in cui pisciare sarebbe un'impresa anche con un premio e tu non ne hai ancora uno vero? allora cosa ne sarebbe di te? mi chiedo cosa? Coriolanus non poteva fare a meno di guardarsi intorno per capire chi altri avesse udito quelle parole orribili ma erano quasi tutti immersi nelle tipiche chiacchiere da tavola non preoccuparti non lo sa nessuno beh quasi nessuno goditi la torta ragazzo il decano Highbottom si allontanò senza disturbarsi a prendere una fetta di dolce per sé Coriolanus che avrebbe desiderato solo lasciar cadere il piatto e correre verso l'uscita tornò a posare con cura l'enorme porzione sul carrello il soprannome l'unica possibilità era che fosse arrivato alle orecchie del decano Highbottom era farina del suo sacco ed era stato stupido da parte sua nonostante tutto il decano era ancora troppo potente per essere ridicolizzato in pubblico ma era davvero così terribile ogni docente aveva almeno un nomignolo e molti erano decisamente meno lusinghieri e poi fuori come un balcone bottom non si sforzava nemmeno di nascondere le sue abitudini sembrava quasi invitasse la gente a deriderlo aveva qualche altro motivo per odiare Coriolanus fino a quel punto di qualunque motivo si trattasse lui doveva sistemare le cose non poteva rischiare di perdere il premio per una sciocchezza del genere aveva intenzione di intraprendere una professione redditizia dopo l'università senza un titolo di studio invece quali porte gli si sarebbero aperte tentò di immaginarsi il futuro in qualche posizione di scarso rilievo a fare cosa gestire la distribuzione del carbone ai distretti pulire le gabbie dei mostri genetici creati nel laboratorio degli ibriti riscuotere l'imposta sulla casa da Seiano Splint nel suo sontuoso appartamento sul corso mentre lui viveva in una topaia qualsiasi a 50 isolati da lì e questo se fossero stati fortunati a Capitol City era difficile trovare lavoro e lui sarebbe stato un diplomato dell'accademia al verde niente di più come avrebbe fatto a sopravvivere chiedendo prestiti essere indebitati a Capitol City equivaleva da sempre a un biglietto per diventare pacificatore il che era accompagnato da una ferma ventennale chissà dove lo avrebbero spedito lontano in qualche orrendo distretto isolato i cui abitanti erano poco più che animali la giornata che era sembrata così promettente gli crollò intorno prima la minaccia di perdere la casa poi l'assegnazione del tributo più modesto tributo che pensandoci bene era decisamente folle e ora la scoperta che il decano Highbottom lo detestava abbastanza da bruciare le sue possibilità di un premio e condannarlo a una vita nei distretti tutti sapevano cosa succedeva quando finivi nei distretti venivi cancellato agli occhi di Capitol City eri praticamente